Si intensifica la battaglia elettorale in vista del rinnovo del Consiglio Comunale di Salerno. Negli ultimi giorni diverse liste hanno annunciato l'impegno a sostegno dei vari aspiranti sindaci. In queste ore a rompere gli indugi sono stati i figli delle Chiancarelle, sotto il cui logo si ritrovano gli storici oppositori a quello che da sempre hanno definito il sistema deluchiano. Annunciato il sostegno alla candidatura di Oreste Agosto, l'avvocato che da anni sta portando avanti la battaglia ambientalista sul fronte Crescent e Fusandola. Facciamo appello a tutte le forze sane della città e alle liste davvero civiche, spiegano i figli delle Chiancarelle. L'obiettivo è porre fine all'attuale gestione, ma l'amministrazione uscente conta di centrare Lenzo Napoli Bis, come è sottolineato a 696 TV dal deputato PD Piero De Luca, che ribadisce l'impegno del partito per proseguire il percorso avviato in questi anni. Ci sono dei progetti importanti che stanno venendo a compimento. Piazza della Libertà, credo vale tutta una consigliatura. Il ripascimento delle spiagge che daranno al Salerno del futuro una nuova immagine, nuovi spazi ricreativi di lavoro, di occupazione. E poi ci prepariamo ovviamente per costruire il programma della Salerno del futuro. È la Salerno che ovviamente vuole utilizzare al meglio i fondi del recovery plan per rafforzare il sistema di politiche sociali già all'avanguardia in Italia, rafforzare le infrastrutture sportive. La Salerno del turismo, Salerno della solidarietà, Salerno del lavoro, della sicurezza, delle politiche ambientali. Insomma, abbiamo un programma importante per continuare a rendere questa città la più bella sicuramente del mezzogiorno per quanto ci riguarda, la più vivibile, tra le più vivibili d'Italia.